Ma a proposito di mainstream parliamo di un bellissimo festival cinematografico, no, non è il Festival di Roma, non è neanche altri, ma è l'Euro-Balkan Film Festival che appunto tra gli organizzatori ha anche Adriano Ercolani. Prima abbiamo avuto Rita Perluccioli, autrice del Manifesto Bellissimo. E la settima edizione di questo festival, festival promosso dall'Associazione Occhio Blu e ispirato dalla passione travolgente dell'ambasciatore Mario Bova, grande promotore del dialogo culturale fra Italia e Balcani da tantissimi anni. Io ringrazio sempre Ludovico Cantisani per avermi coinvolto in questa bellissima avventura, Ludovico uno dei più brillanti intellettori della sua generazione, ma anche una persona del grande pragmatismo che gli consente di essere un agitatore culturale di tutto rispetto. Oggi inizia la settima edizione, ragazzi, e quest'anno avremo più location, non soltanto la Casa del Cinema e il nuovo Cinema Aquila come negli anni precedenti, ma anche il Maxi, attenzione. Tutto sarà ad ingresso gratuito, anche il Maxi. Raccontaci un po' come nasce questo festival e anche un po' a che punto siamo a livello di dialogo culturale tra l'Italia e i Balcani. Ma guarda, io anche tramite questo festival, ho scritto anche recentemente un articolo sul Fatto Quotidiano, ho avuto la possibilità di gaggiare moltissimo nei Balcani, che da sempre fanno parte del mio immaginario, data la mia natura un po' nomade, almeno a livello interiore. E ho potuto testimoniare che veramente nei Balcani, soprattutto in Albania, ma non solo, gli italiani sono considerati in maniera molto positiva. Quindi è uno dei luoghi in cui dovrebbero recarci in vacanza, perché in Albania è veramente la cosa divertente, perché tu vai al bar a prendere un caffè e la musica, la radio è Loredana Bertè o Donatella Rettore, e la gente molto spesso ti parla in italiano, quindi è un po' come noi con gli americani negli anni Sessanta per intenderci, anzi parlano molto meglio l'italiano loro adesso di quanto lo facciamo noi con l'inglese. E devo dire, c'è una vivacità, un fermento culturale molto interessante. Tirana in particolare è una città affascinante e assurda dal punto di vista della giusta posizione architettonica, perché tu trovi piazze sovietiche con architetture mussoliniane, moschee e nightclub, quindi è una cosa molto vivace. Senti, invece che cosa ci dobbiamo aspettare, cosa troviamo in questa edizione dell'Eurobank Film Festival? Cosa ha colpito la tua... Tantissime cose, io vi dico solo le cose salienti, perché ci sono focus, dibattiti, focus sui giovani autori, sul cinema femminile, eccetera. Dopo parleremo del film d'apertura, quindi vai. Esatto, questa sera alla Casa del Cinema, ad esempio alle 20 c'è Teatro di Guerra, un incontro con Mario Martone, che appunto ripresenterà questo suo antico e bellissimo film. Nei prossimi giorni, ad esempio, al Maxi, sabato ci sarà la possibilità di vedere Do Not Expect Too Much From The End Of The World, di un autore premiato, stimato come Radu Giud. Domenica, sempre al Maxi, ci sarà un focus su lettatura e cinema dedicato a Ismael Kadare, che è il più grande scrittore albanese del Novecento, e verrà proiettato anche il film Il Generale dell'Armata Morta, che è un film con un cast eccezionale, Marcello Mastriani e Michel Piccoli, con la regia di Luciano Topoli, maestro della direzione della fotografia, pensiamo alla leggendaria fotografia di un film come Sospira di Dario Argento, che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Insomma, e poi ci sono anche tantissime novità, appunto, delle primizie del cinema balcanico, oltre appunto a questi dibattiti, questi interventi. Io interverrò, lo dico per i miei fan, no, a parti scherzi, giusto che il mio contributo sarà la presentazione lunedì 11 al nuovo Cinema Aquila alle 18.30, introdurrò un film molto particolare che viene dai Balcani. Noi tra poco parleremo dell'agita scolastica di Una Gunciac, che apre questa sera, diciamo, anteprima nazionale, prima di quello di Martone, sì, alla Casa del Cinema. Tra l'altro, proprio all'interno di questo film, questa famosa agita scolastica, poi ne parleremo meglio, è una delle tappe, delle due tappe principali possibili, è Venezia, perché ovviamente, cioè, e ogni tanto appunto si parla di questo legame con l'Italia, assolutamente. E viene criticato il fatto che, ma che cosa ci andate a fare? A Venezia starete più tempo sul Pullman che a Venezia. Giustamente, questi sono poi i problemi di tutte le gite scolastiche di tutto il mondo, in effetti. Allora, Adriano, quindi niente, ci vedremo, invitiamo le ascoltatrici a partecipare a questo festival, e avere la possibilità di vedere cose che, altrimenti, credo, anche per un discorso di distribuzione, è molto complicato recuperare. Mettiamola così. Un grazie gratuito. Sempre. Sulle pagine Instagram dell'Aerobalcan Film Fest, le pagine social, anche sul sito, trovate tutto il programma dettagliatissimo e molto, molto ricco quest'anno. Sì, sì. E appunto, non sbagliatevi location, nel senso, non andate a casa del Cina, non andate al Maxi, o a Nuovo Cinemaquil e viceversa. Ogni giorno ci saranno delle proiezioni in differenti posti di Roma. Un festival diffuso? Diffuso. Bene. Con un, ripeto, con un poster veramente, veramente molto bello. La verità, ragazzi, garanzia di qualità. Mi piace anche questo sguardo quasi che evoca la Dea Iside, no? Per parlare di culti diffusi e sincretici, bellissimo, veramente. Questo occhio blu. Esattamente, è come il nome dell'associazione. Grazie mille, Adriano. A presto. Grazie, grazie. Stranamente, io non ho chiesto a te la scelta musicale, ma l'ho presa direttamente da una tua esternazione, da un tuo exploato. Una tua esternazione potrebbe essere qualsiasi cosa. Che hai messo la canzone del primo maggio di Deglio che parla della musica balcanica. No. Mettecina hai messo. Esattamente. Mettecina, io, 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 grandissima canzone su cui potrei parlare molto, ma non lo farò e vi lascio un grande ascolto. Goran Bregovi. Esattamente. La sentiamo. Grazie molte. Ciao. Grazie, amici. Ciao. Ciao. Ciao.